ciao a tutti bentornati in questo video con molto piacere vi voglio mostrare il nostro settore di pomodoro precoce invernale e questo è il midi plum come vedrete dalle immagini tra pianto del 27 gennaio siamo oggi il 7 aprile quindi dopo poco più di due mesi si presenta bellissimo in salute sia il colore della foglia sia i frutti a parte che c'è una bellissima fruttificazione vedrete che più andiamo in alto più ci sono fioriture abbondanti diciamo con molti frutti sta legando benissimo c'è una un'ottima attività dei bombi quindi dei nostri impollinatori quindi direi che sta andando tutto bene grazie al nostro sistema di coltivazione quindi sia a livello di nutrizione radicale fogliare trattamenti preventivi sempre sia radicali per eventuali malattie delle radici sia fogliari per eventuali malattie della parte aerea che non lo so penso si vedrà benissimo che insomma le piante sono in ottima salute c'è qualche attacco la presenza della tuta absoluta che come sapete da noi è un grossissimo problema se seguite il canale sicuramente avrete già visto diversi contenuti al riguardo se non seguite il canale vi invito come sempre ad iscrivervi mettere un mi piace al video ok date un'occhiata in descrizione che ci sono anche tanti altri link utili come quelli ai social ci sono anche i canali sui vari social fra cui quello nuovo di whatsapp anche lì troverete altri contenuti foto immagini e via dicendo però ritornando a noi sto dicendo questo qui innanzitutto è il masino dell'agri sementi è una varietà appunto a frutto medio tipo piccadilli per capirci molto produttiva che è caratterizzata da grappoli abbastanza lunghi con molti frutti contrate dai 16 ai 20 perché spesso e volentieri dal secondo terzo palco si sdoppia quindi abbiamo una produzione solitamente molto importante una qualità dei frutti anch'essa notevole e un'eleganza ecco non solo del frutto ma anche di tutto il grappolo grazie al sepalo la forma del sepalo il raspo è molto vivo e spesso che diciamo fa la porca figura ecco quando lo dobbiamo andare a portare al mercato tornando ai la questione trattamenti come sapete ho svelato il nostro protocollo di trattamenti tutti con prodotti bio quindi consentiti in agricoltura biologica e qui abbiamo iniziato a fare sul serio con i trattamenti in fine febbraio perché come appunto spiegato in quel video andatelo a recuperare ve lo lascerò in descrizione perché è molto importante proprio perché spiego in modo dettagliato come abbiamo agito e cosa utilizziamo insomma come quasi nella totalità dei casi la prevenzione è fondamentale in un metodo soprattutto di coltivazione ecco più spostato verso la sostenibilità dobbiamo agire sempre in preventivo quindi mantenere le piante in generale la coltivazione sana forte e in grado di rispondere alle avversità come sapete se conoscete questo problema la tuta assoluta nella generazione svernante è molto rapida è difficile da controllare quindi se noi ci pensiamo a tempo con gli interventi preventivi possiamo avere risultati ottimi poi con i recenti sviluppi ecco del nostro sistema di coltivazione riusciamo a mantenere la appunto la coltivazione stessa pulita fra virgolette come diciamo noi quindi senza grossi problemi non solo ovviamente da parte di questo insetto ma ci sono ovviamente altri insetti e parassiti che possono continuare ad aggredire non solo le piante ma anche i frutti in generale tutto quello che c'è da mangiare come sapete abbiamo tanti nemici noi in agricoltura quindi mantenendo per lungo tempo la coltivazione pulita come dicevo prima riusciremo ad avere un ottimo raccolto sia in termini di qualità ok sia in termini di quantità ora appunto potrebbe esserci la presenza di qualche insetto adulto quindi qualche farfallina che va in giro potrebbe esserci qualche attacco di larva nelle foglie soprattutto nella parte bassa ma andiamo a vedere che nella parte alta va scomparendo l'azione della tuta di questo mini lepidottero per chi non lo sapesse cosa vuol dire che il ciclo dell'insetto è fermo va bene perché normalmente va ad attaccare le parti superiore o comunque verso la parte apicale delle piante che è quella più appetibile quando vediamo un fenomeno del genere quindi che non appaiono nuovi attacchi nuovi danni da parte di questo insetto ma anche di molti altri vuol dire che è un grosso successo che stiamo agendo bene abbiamo lavorato bene in preventivo e quindi ci basta solo monitorare la situazione e andare eventualmente ad intervenire periodicamente ma in un lasso di tempo molto lungo quindi capiamo che è una cosa molto sostenibile va bene andare ad agire in preventivo magari in maniera precisa e abbastanza metodica e poi dopo magari 15 20 giorni 30 giorni andare a valutare se c'è bisogno di fare qualche altro intervento per il controllo ecco di eventuali problemi e con controllo di emergenza se vogliamo quindi io sono molto soddisfatto di questi risultati la gestione come vedete anche qui abbiamo dei filari molto larghi che abbiamo adottato già la scorsa campagna quindi un sesto di impianto con la distanza fra le fila di due metri e poi la distanza fra le piante invece è molto ravvicinata parliamo di 30 centimetri sulla fila il filare doppio doppia manichetta con pacciamatura e le piante sono non sono in linea con le manichette ma sono perpendicolari alle manichette in questo modo l'esposizione alla luce solare spero si vedrà anche questo è più che ottima le piante godono di una splendida irradiazione della luce solare è una cosa molto bella veramente quindi abbiamo grossissimi vantaggi a livelli di fruttificazione la pianta può fare tutti i processi in maniera splendida qui il sole entra da tutte le parti ecco la luce del sole questa è una cosa importante e non solo anche i nostri trattamenti appunto quando andiamo a operare con i trattamenti fogliari acquosi anche quelli polverosi ovviamente con questa disposizione avremo risultati direi ottimi ma comunque sia maggiore rispetto ad avere un muro di piante ok ci sono altri fattori da considerare anche una buona gestione della pianta a livello di sfemminellatura e defogliazione noi in questo periodo sicuramente non operiamo defogliazioni totali o comunque pesanti quindi non andiamo a spogliare del tutto le piante perché comunque si devono proteggere anche si devono fare ombra loro stesse però qualche foglia da togliere sempre c'è per permettere appunto di dare più luce in generale a tutte le piante e anche di far agire meglio i trattamenti ok come tra pianti di gennaio ci sono anche il marmante e il cilegino zagon magari le vedremo in un altro video se vi va beh come lo potete scrivere nei commenti stanno andando molto bene anche quelli e basta ci aggiorniamo fra l'altro ne ho parlato in maniera un po più tecnica del marmante lo abbiamo visto in un video dedicato agli abbonati quindi se a voi interessano contenuti molto più tecnici specifici potete ecco dare un'occhiata agli abbonamenti cliccando sul tasto abbonati avrete molti dettagli in più per il resto mi raccomando fate i bravi picciotti fate le brave picciotte e ci vediamo nel prossimo video